eccoci qua continuiamo la nostra riflessione vi facciamo compagnia c'è un hashtag che sta girando per chi non è tanto social insomma l'hashtag è quella parola chiave che tutti riportano in qualsiasi riflessione e che è diciamo il come si può dire il la moda del momento il trend del momento ed è io resto a casa e per voi che restate a casa noi ci incontriamo giusto per questi attimi da condividere con voi c'è questo hashtag io resto a casa appunto che invita a rimanere insomma protetti in un luogo protetto e a contenere sempre più il contagio è una paura che si è diffusa ormai in tutto il territorio nazionale non solo alla quale dobbiamo rispondere con le nostre capacità hai detto bene dobbiamo rispondere e la parola responsabilità viene proprio da rispondere noi rispondiamo a tutto quelle a tutte quelle che sono le sollecitazioni che provengono dall'esterno con una risposta che deve essere consapevole e deve tenere in conto principalmente delle cose buone che anche ci vengono delle indicazioni che ci vengono fornite noi non sappiamo tutto prima Paolo faceva riferimento anche alla costruzione di una cultura che sia non nozionistica ma che sia sudata che sia provata che sia studiata noi non possiamo sapere tutto non possiamo occuparci di tutto e in alcuni casi anzi nella maggioranza dei casi della nostra vita dobbiamo fidarci di qualche altro che ne sa più di noi che è più consapevole di quello che dice ed ecco che specialmente in questi giorni in cui tante fake news stanno girando anche per i social ma anche nei discorsi tra di noi quando ci chiamiamo a telefono quando ci incontriamo per strada sempre mantenendo una distanza di sicurezza ecco ne circolano tante di queste notizie noi dobbiamo fare una cernita siamo chiamati a fare ecco ancora una volta discernimento a cercare di fidarci non tanto di noi stessi ma nemmeno delle nostre paure nemmeno delle nostre illusioni non ci dobbiamo lasciar prendere da tutte queste negatività ci dobbiamo fidare dell'esperienza e della parola di chi ne sa più di noi in questo caso dei medici degli infermieri di chi si occupa più immediatamente di questo problema che sta girando sta circolando e sta spopolando anche in mezzo a noi e che ci mette in allarme ovviamente però non non perdiamo la speranza e soprattutto non perdiamo la calma perché se perdiamo la calma e allora che siamo un po veramente persi è vero un po questo caso ci prende un po l'ansia ecco qualcuno soffre anche di attacchi di panico e quindi è giusto insomma mantenersi calmi al posto giusto ascoltando le persone giuste a proposito tu citavi tanti medici tanti operatori sanitari noi ringraziamoci uniamo al coro di chi ringrazia per il lavoro che fanno tutti i giorni ed è proprio sono proprio quelle le voci che dobbiamo ascoltare in questo settore in questo ambito certo noi prendo per esempio le voci della chiesa dei sacerdoti o di chi opera all'interno delle parrocchie ovviamente è tutto allineato a quelle che sono le prescrizioni degli operatori sanitari ma anche alle ultime direttive del consiglio dei ministri e ovviamente ha dovuto prendere delle decisioni precauzionali e limitanti in alcuni casi ma solo per tutelare la nostra salute anche padre franco il nostro vescovo ce l'ha detto miriamo alla santità che in questo periodo è declinato con miriamo alla sanità per quello che ci è possibile tutto per il bene comune effettivamente c'era una canzone tempo fa di gabbani che diceva tutti i tuttologi con il web giusto e quindi insomma attenzione attenzione a questo tanti sono gli hashtag dicevamo io resto a casa smart working perché comunque si dà la possibilità alle tante aziende di usufruire di questa di questo lavoro agile che si può tranquillamente fare da casa sempre per il bene comune e qualcuno c'è un gruppo social di giovani salmoni cosiddetti salmoni che hai anche insomma sdoganato questo hashtag per la preghiera visto e considerato che comunitaria fisicamente non si può fare si può creare rete e pregare a distanza pregare da casa viviamo nella comunione dei santi noi lo diciamo tutte le domeniche quando professiamo il nostro credo la comunione dei santi è un concetto che spesso noi cristiani non capiamo infatti che cosa è la comunione dei santi se non questo sentirci continuamente in comunicazione con gli altri fratelli anche lontani da noi ma che pregano con le nostre stesse parole cercano di fare proprio gli stessi sentimenti scrive paolo ai filippesi che furono di cristo gesù ecco questo è il tempo della comunione dei santi i santi siamo noi sono i battezzati paolo si rivolge ai romani chiamandoli santi perché partecipi della fede in gesù cristo morte risorto i santi allora siamo noi riscopriamo la nostra santità le radici della nostra vita cristiana un po il nostro battesimo il fatto che siamo accomunati da una stessa fede e in questa stessa fede come i cristiani di un tempo preghiamo nelle nostre case ci sentiamo tutti uniti tra noi da questo vincolo di fraternità che nemmeno un virus può spezzare e prima di tutto questo c'è chi ha pensato a creare un monastero wifi lo conosci un monastero virtuale sì sì ne ho sentito parlare qualche volta sì ci si ritrova a determinate ore della giornata ci si divide anche poi compiti nella preghiera e quindi insomma c'è chi prega a distanza per tutti noi e quindi dovremmo farlo viceversa in questo momento in cui c'è chiesto particolare attenzione in cui c'è chiesta particolare attenzione e particolare vicinanza noi ci riscopriremo secondo me un po più cristiani e un po più umani dopo questo periodo che sicuramente avrà bisogno di un certo tempo per per passare ci riscopriremo più cristiani e questa una speranza un po che deve sorreggerci in questi giorni che cosa vuole dire che cosa vuole dirci dio attraverso questo periodo che cosa vuole suggerirci il signore come stile di vita come stile di comportamento come attaccamento all'essenzialità delle cose delle persone che cosa vuole dirci qual è il messaggio che il signore ci vuole lanciare ecco qual è l'hashtag che dio vuole comunicarci in questi giorni un po di di solitudine di distacco ecco anche anche dalla relazione penso che sia un tempo buono per rifletterci sopra e per darsi delle risposte ecco con l'aiuto dello spirito che ci accompagna sempre guida sempre i nostri passi è vero la la dimensione umana va riscoperta e lo dice anche papa francesco nell'ultimo messaggio sulla nella giornata dedicata alle comunicazioni quindi insomma attraverso il digitale in questo momento si fa più importante si fa più forte diciamo è l'ancora a cui aggrapparsi in un certo senso questa comunità online in tutti i sensi per riscoprire la nostra dimensione umana e di chi ci sta accanto infarcire di bontà le nostre le nostre relazioni che possono essere anche mediate da un computer possono essere mediate dal web da uno schermo questo caso più che ma insomma ci è utile questo mezzo sì mai mai limitarsi mai limitarsi a espressioni magari di di disprezzo di non curanza di superficialità mai arrendersi a tutto questo magari ecco anche grazie alla mediazione di uno schermo potremmo riscoprire la bellezza delle relazioni non mediate da niente se non dalla propria fisicità dalla propria parola speriamo di ecco riuscire a diventare come dicevo prima un po più persone dopo questo periodo quando ci viene tolta la possibilità di incontrarci fisicamente con gli altri con le persone a cui vogliamo bene è allora che iniziamo a stimarne di più l'importanza per la nostra vita ecco adesso ti faccio una domanda più una curiosità che forse molti da casa hanno già pensato cosa fa un sacerdote in questo periodo una bella domanda una bella domanda noi per esempio continuiamo a celebrare la santa messa quindi anche se fisicamente non vediamo nessuno davanti a noi se non alcuni banchi vuoti continuiamo a pregare per le nostre comunità le campane non suoneranno più per annunciare l'inizio delle celebrazioni l'inizio delle messe però tutte le volte che noi ci avvicineremo all'altare penseremo alle persone che da casa sono in collegamento con noi in una maniera o in un'altra per pregare con noi insieme a noi e per noi chi dice senza l'eucaristia non possiamo vivere non possiamo vivere la chiesa ci mette davanti anche la possibilità di fare la comunione spirituale in questo periodo che ha in casi di emergenza lo stesso valore della dell'eucaristia fisica di quando noi ci accostiamo proprio materialmente alla comunione il signore provvede tutti i mezzi di grazia quando noi ne abbiamo bisogno non fa mai mancare la sua vicinanza e la sua presenza in questi giorni addirittura noi la possiamo avvertire in una maniera ancora più forte questo è vero è vero è quella famosa ancora no a cui aggrapparsi don pasquale ci sono diversi momenti anche durante la quaresima a cui si partecipa come fedeli come credenti uno tra tanti è la confessione sì come comportarsi come comportarsi ecco magari qualcuno ha questo dubbio ci sono delle richieste che ci vengono fatte anzi che sono state già rivolte a noi sacerdoti ecco noi per quanto possibile cerchiamo sempre di salvaguardare la confessione comunque il colloquio spirituale ovviamente sempre attenendoci alle disposizioni che ci sono state date da un punto di vista governativo ma anche ecco ma anche dai nostri vescovi ci teniamo alla debita distanza di sicurezza cerchiamo di ascoltarci di venirci incontro ecco anche in questo senso non non deve venire a mancare il sostegno il sostegno spirituale da parte di noi sacerdoti da parte degli operatori pastorali perché anche in una confessione si possa sentire sempre più la vicinanza decisa e premurosa di dio allora per concludere questo nostro questo nostro appuntamento oggi in fuori programma davvero un fuori programma che nessuno si aspettava da diverso tempo c'è un altro hashtag che gira e che dice andrà tutto bene andrà tutto quale conferma ci puoi dare quale rassicurazione ci puoi dare la luce del vangelo e la luce di quello che siamo san paolo ci dice che tutto concorre al bene di coloro che amano dio quindi anche il male anche le sofferenze anche le solitudini tutte sono indirizzate dalla provvidenza verso un fine di bene per noi prima hai parlato del bene comune ecco questo concetto così tanto conosciuto così tanto approvato ma così tanto disatteso ecco ne vediamo di cotte di crude in questi giorni ecco abbiamo visto anche le immagini di chi dopo aver dopo essere venuto a conoscenza del decreto che chiudeva alcune province alcune regioni si sono ammassati nei treni per cercare di raggiungere il sud ecco riscoprire il bene comune mettere al primo posto anche prima dei propri desideri e prima prima anche dei propri dei propri stati d'animo il bene comune la salvaguardia della salute in questo caso che veramente rappresenta un bene e una ricchezza che non può essere scalfita da nessun nostro desiderio che va contro un po il le necessità degli altri in questo senso e poi è un momento che passerà certo quindi oggi a maggior ragione un abbraccio virtuale a tutti i nonni che ci seguono da casa non sentitevi soli perché non lo siete noi siamo qui a farvi compagnia ci ritroviamo domenica prossima poi subito dopo la pausa io e te per un altro argomento ma una cosa flash ok smart anche questa volta